E' un'altra parte. E' una sicura riposizionata. Colpi fuori bersaglio. Teniamo ricognizione in cerca di bersagli. Qui Jaguar 3-0, confermato. Battugliamento UAV iniziato. Attenzione, UAV in rientro forzato per fare rifornimento. UAV nemico in volo. State perdendo terreno. Quadra a capo, chiediamo ricognizione. Qui Jaguar 3-0, confermato. Battugliamento UAV iniziato. Attenzione, UAV in rientro forzato per fare rifornimento. Gas in arrivo, alla nuova zona sicura. Meno di cinque bersagli rimasti. Diamoci da fare. Avete del gas in arrivo. Oh. Oh. Sì. Ci vediamo la prossima. Imparate! Sì.